Volo oltre la nebbia è una storia reale e drammatica di un ragazzo, di un signore che per tanti anni ha visto la sua vita a stazione Termine di Roma. Volo oltre la nebbia è la storia di un tossicodipendente, una persona con particolari disagi che a un certo punto della sua vita, ritrovandosi casualmente tra le mani il Vangelo, sfogliandolo, leggendolo, coglie un senso di riscatto. È un cortometraggio che va assolutamente visto, è un cortometraggio da vedere senza troppi filtri, insomma bisogna lasciarsi trasportare dalla storia. Il nostro progetto è anche un manifesto, una dichiarazione contro la violenza, contro la droga e allo stesso tempo anche un messaggio di speranza. Si può uscire anche delle situazioni peggiori della vita. Grazie per la visione!